Mr. Balba aveva detto basta con gli esperimenti, questa sera con il Figline si è visto una partita buona, a tratti anche intensa, soprattutto nel primo tempo. Soddisfatto? Soddisfatto perché queste partite servono per migliorare, quindi facciamo delle cose buone e delle cose meno buone. E' importante che i ragazzi stanno prendendo una migliore condizione fisica e stanno riuscendo a fare le giocate che stiamo provando noi da tempo, quindi piano piano si migliora, per questo servono queste partite. Le chiedo un giudizio sui singoli, però il tridente offensivo è sembrato intendersi piuttosto bene. Una citazione personale, Martínez forse è quello un po' più avanti di tutti. Tutti quelli che giocano sono tutti bravi, poi un giorno va meglio uno, un giorno va meglio l'altro, logicamente Martínez è uno dei nostri punti di forza, sui quali noi puntiamo, quindi io mi aspetto molto di lui, mi aspetto molto da Vagnato, da Pecorari, a questi giocatori qua che sono quelli che devono prendersi la responsabilità e mettersi sulle spalle della squadra perché sono quelli i giocatori più importanti. Ha scelto Zurli e non Idromela, è favorito lui come 94? No, non c'è nessun favorito, io sto vedendo un po' tutti, quindi ancora non ho deciso niente. Sono due ragazzi molto molto bravi tutti e due, lavorano tanto tutti e due, si danno sempre tanto da fare, vogliono migliorare, quindi io sono molto felice e contento di averle tutti e due. Uno dei due sicuramente giocherà, o possono giocare anche tutti e due, non si sa ancora, vediamo.